Io sono Simona Romaniello, coordino l'Ufficio di Didattica e Divulgazione di Infinito, il Planetario di Torino, il Museo dell'Astronomia e dello Spazio. Anche quest'anno parteciperemo alla Notte dei Ricercatori in due luoghi diversi. Saremo aperti qui, a Infinito, con molte attività in collaborazione con l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. È la Notte dei Ricercatori, quindi ospiteremo i ricercatori nei nostri spazi del museo, in conferenze spettacolo all'interno della Sala del Planetario e in astrotalk, cioè chiacchierate insieme ai ricercatori sui temi di attualità dell'astrofisica e della ricerca in astronomia. Saremo poi al Museo Egizio con un'attività che si chiama Racconti di Cielo, con l'uso del planetario digitale portatile. Noi siamo un planetario e quindi al Museo Egizio porteremo la nostra esperienza con spettacoli di animazione all'interno della Sala del Planetario sulle nuove scoperte e le nuove ricerche in campo astrofisico, quindi dalla ricerca di pianeti extrasolari fino anche alle celebrazioni dei cinquantesimo dello sbarco sulla Luna. Quest'anno festeggiamo i 50 anni, da quando l'uomo ha messo piede sulla Luna e rivivremo quei momenti all'interno della Sala del Planetario. Vi aspetto quindi tutti alla Notte dei Ricercatori, al Planetario di Torino e al Museo Egizio.